buongiorno etv ben trovati con la rassegna stampa come ogni mattina come ogni giorno sul canale 12 del digitale contemporanea streaming sul nostro sito internet www.etvmarket.it la nostra pagina facebook la nostra app di etv tutti i modi che conoscete per seguirci quando volete e dove volete restare ovviamente sempre aggiornati con i principali fatti che sono accaduti o che accadono nelle marche ma anche in italia e nel mondo e a proposito di sito internet lì sul nostro portale che vi porto nella home page per i titoli e per le notizie in primo piano la giornata delle marche il premio alle due ricercatrici volate all'estero francesca rossi sofia scataglini rispettivamente omaggiate con il picchio d'oro e il premio speciale del presidente della regione francesco acquaroli il tema della giornata delle marche di ieri erano le infrastrutture le due ricercatrici invece per il loro impegno nello sviluppo tecnologico l'intelligenza artificiale a macerata tante idee regalo nel negozio di natale di emergency una soluzione può essere questa con solidarietà sullo sfondo in vista appunto dell'arrivo delle festività e poi la cronaca con il ragazzino che sale sul tetto della scuola per gioco e precipita di sotto trasportato a torrette successivamente il trasferimento anche al pediatrico salesi di ancona e poi ancora cronaca sfogliando la nostra home page con appollenza il cane caduto in un dirupo e recuperato dai vigili del fuoco dopo un volo di circa 5 metri fortunatamente nessuna conseguenza per l'amico a quattro zampe l'auto prende fuoco dopo l'incidente arrivano anche in questo caso i pompieri successo a sasso corvaro nella serata di sabato dopo un incidente l'auto ha preso fuoco salve le due persone che erano invece a bordo il dramma della solitudine e delle due sorelle stortini a recanati trovate morte dopo quasi un anno e l'autopsia ha confermato la morte naturale di entrambe da capire quanto tempo fa con precisione sono avvenuti i decessi e quale magari prima dell'altro ancora le notizie che trovate scorrendo il nostro sito anche con il tema degli olivi monumentali l'amap che ha mappato quelle che ha definito icone della biodiversità e poi il parco del conero il nuovo presidente luigi conte che traccia un po la strategia e le prospettive rilancio del brand ambiente e turismo da mixare in un compromesso che guardi sia lo sviluppo economico ma ovviamente partendo da quella quota fissa di sostenibilità ambientale come giusto che sia per il parco del conero alluvione del 2023 quello di maggio scorso è ufficiale sono dentro anche 17 comuni che erano in per loro dunque si apre la fase della richiesta potenziale di contributi dopo il riconoscimento anche per loro dello stato di emergenza e poi si parlerà di ricostruzione post sisma anche alla cop 28 a dubai che si sta svolgendo con lo sguardo rivolto anche qui alla sostenibilità ambientale e poi lo sport con le notizie dalla sconfitta dell'ascoli alla vittoria della lube venerdì in superlega a cisterna ieri la sconfitta della buelle battuta nel campionato di serie a di pallacanestro in casa da trento i pareggi della vispesaro e della fermana contro perugia e lucchese il capo in trasferta dell'ancona 3 a 2 contro il sestre ancona che però vinceva per 2 a 0 nel campionato di serie c girone b questo per quello che riguarda il nostro sito la rassea stampa locale la proseguiamo con le edizioni in digitale del corriere adriatico edizione di ancona ancona attrae il titolo hotel pieni tutto esaurito negli alberghi per il ponte volano le prenotazioni per capodanno il concertone attira gente gli imprenditori un aumento di presenze fino al 15 per cento serve essere accattivanti le buone proposte dicono alla fine pagano e poi in taglio centrale le parole della dell'assessore ai grandi eventi angelo eli antonio l'arena estiva i big al porto antico sarà un brand come il nostro sferisterio le notizie dal territorio lo schianto per schivare il branco di cinghiali grave un motociclista è accaduto ad ancona sempre sempre di più i casi con cinghiali che producono e causano degli incidenti a macerata scontri dopo il derby di eccellenza con l'osimana ferito anche un poliziotto a senigallia invece vanno a fare spesa ma i ladri acrobati fanno irruzione in casa di spalla da amazon ai satelliti le infrastrutture verso il futuro dal polo di amazon in costruzione a jesi all'alta velocità ferroviaria dalla penisola del porto di ancona alle nuove rotte del sanzio fino al lancio di satelliti le marche cercano di ridurre tempi e distanze costruendo e progettando le infrastrutture del futuro se ne è parlato ieri in occasione della giornata delle delle marche con abbiamo detto le infrastrutture come tema centrale e poi la sanità siamo di piede con le parole del direttore generale attuale dell'ospedale di torrette gozzini che replica all'ex caporossi dice anche con me c'è la qualità all'ospedale di torrette non c'è niente da buttare perse 28 unità riaperta la graduatoria degli infermieri anche come al timone a torrette c'è qualità il digi gozzini replica il suo predecessore caporossi che aveva rimarcato come il premio di migliore ospedale fosse arrivato quando guidava lui gozzini che rimarca anche che a torrette non c'è niente da buttare perse 28 unità ma l'assetto è stabile dice l'attuale digi e poi il calcio il crollo ancona va sul 2 a 0 poi il sestri ne segna tre e vince la partita per 3 a 2 la prima pagina dell'edizione di ascoli san benedetto disco verde al teatro romano sul palcoscenico sarà installata una macchina mobile in acciaio che scorre su un binario si sbloccano le procedure per la gara d'appalto anche per la necropoli e l'area archeologica in taglio centrale sono stati scelti cavalieri per la quintana porta tufilla sarà gubbini nello staff sempre ad ascoli la sanità che ovviamente spostandoci di territorio in territorio presenta criticità diverse in questo caso nel piceno contratti non rinnovati andranno a casa 50 operatori dell'azienda sanitaria territoriale a san benedetto contributi comunali per pagare gli affitti alle famiglie povere le misure dell'amministrazione per chi ne ha più bisogno e sempre a san benedetto il babbo natale arriva in moto c'è attesa per la fiera ma san benedetto c'è anche un caso ed è quello del calendario con le mis nei barbieri anni 70 sono le parole di gaspari l'ex sindaco che va all'attacco dell'attuale primo cittadino spazza fumo per protesta diserterà le riunioni del truentum una protesta silenziosa appunto quella di gaspari per dissentire dal calendario realizzato dal comune e l'ex sindaco diserterà le riunioni della commissione per l'assegnazione del truentum dai banchi del centro sinistra intanto aurora bottiglieri sottolinea il silenzio della maggioranza il caso è questo calendario con le mis per un evento a san benedetto e anche il lo so lo stemma il simbolo del comune di san benedetto di qui le polemiche di natura politica e non solo calcio anche per chiudere la prima pagina delle dell'edizione di ascoli derby in serie d tra atletico ascoli e samb la rimonta dell'atletico samb bloccata sul pari è finita 2 a 2 edizione di fermo svolta per campiglione i consiglieri di maggioranza faggio e pistolesi puntiamo su nuove infrastrutture scuole servizi respinte le critiche dei dem hanno lasciato incompiute strada lungo tenna e variante del ferro in taglio centrale il boom di presenze per il violinista alessandrini in piazza a fermo il natale che porta sempre gente e piazza sempre gremita nel capoluogo di provincia a porto sant'elpidio la festa del gruppo di protezione civile la sottolineatura da parte di tutti siete un esempio affermo quella bretella troppo impattante lettera ad acquaroli da parte del comitato di bivio cascinare che contesta una bretella che sta portando un aumento della mole di traffico nella zona e il comitato ha deciso di scrivere una lettera ad acquaroli per invitarlo ad un incontro a porto san giorgio nella stazione una panchina gialla per i diritti umani oggi sono 75 anni dalla dichiarazione dei diritti umani affermo serie di truffe e raggiri due persone nei guai le indagini dei carabinieri hanno chiuso il cerchio un finto operatore postale riesce a spillare 1300 euro i carabinieri del comando provinciale di fermo hanno concluso con successo una serie di accertamenti contro le frodi due sono le denunci il primo episodio è avvenuto a porto san giorgio nel secondo caso è stato scovato un finto operatore postale dai carabinieri di monte giorgio sempre occhio e massima attenzione a quelle che potenzialmente possono essere truffe potenzialmente insomma un modo per raggirarci il calcio un buon pari per la fermana a lucca è finita 0 a 0 nel volley di serie a 2 grotta zolina è da record titolo di apertura dell'edizione di macerata cantieri badge per tutti sicurezza sul lavoro nella ricostruzione post terremoto castelli annuncia un'ordinanza per il cratere il giro di vite dopo la fase di sperimentazione in arrivo anche più ispettori per potenziare i controlli taglio centrale con il derby di eccellenza maceratese usimana danni alle auto e un agente ferito all'elvia recina tafferugli tra i tifosi e poi a macerata centro commerciale simonenti adesso la variante approda nel consiglio comunale a civita nuova parco divertimenti al varco sul mare boom di presenze in questo ponte dell'immacolata a recanati le fonti san lorenzo parte una raccolta per avere altri fondi e dunque per la riqualificazione e per dare una nuova vita anche a fonti san lorenzo ospedale di san severino siamo di piede ipotesi di un reparto covid la proposta arriva dalla dirigente dell'ast daniela corsi punti di primo intervento scatta l'allarme sulle chiusure perché perché la corsi durante alcuni incontri che si sono svolti negli ultimi giorni ha annunciato la volontà di aprire un reparto covid negli spazi dell'ospedale di san severino e poi ha proseguito prospettando l'idea o la decisione di chiudere alcuni punti di primo intervento occhi puntati in particolare su recanati la civita novese non va oltre il pari ma resta sempre prima e l'ultimo titolo che riguarda il campionato di eccellenza di calcio marchigiano edizione di pesaro titolo di apertura rifiuti il piano è già vecchio dopo più di sette anni di iter convocati mercoledì i sindaci dell'ata per l'approvazione definitiva secondo le stime elaborate le due discariche per gli rsu si esauriranno all'inizio del 2027 taglio centrale con la maschera pesarese che conquista il carnevale rabachen sarà sindaco di fano può sembrare strano ma effettivamente c'è una sorta di gemellaggio istituzionale tra pesa e fano al carnevale di fano la maschera pesarese diventerà sindaco tra virgolette della città fanese in occasione delle iniziative degli eventi del carnevale a pesaro bagiocchi il nuovo coordinatore del partito fratelli di italia e dice basta con i conflitti in particolare chiede la pace ai fratelli baldelli con i quali nei giorni scorsi bagiocchi e forse anche non solo nei giorni scorsi ma da più tempo a questa parte aveva avuto tensioni di natura politica mettiamola così la cronaca per i baby vandali a pesaro ancora segnalazioni di danneggiamenti a fano fanesi il vice sindaco nonché assessore all'urbanistica i vincoli del piano regolatore a tutela delle vie del commercio prova a spegnere diciamo fin da subito le fiamme della polemica o della preoccupazione sventolando i vincoli che nel prg servono a mettere e a difendere diciamo il commercio cittadino il 13enne vigile e cosciente resta in prognosi servata giù dal tetto della scuola non è in pericolo di vita il ragazzino è stato trasferito al pediatrico al salesi di ancona e vigile e cosciente infatti il 13enne caduto l'altro pomeriggio dal tetto della palestra dello scientifico marconi al campus scolastico dopo aver sfondato la copertura in plexiglass di un lucernario un volo di 4 metri che gli ha provocato la frattura di una gamba e altre contusioni lo sport a perugia una bella vis finisce 2 a 2 per il calcio vl a picco invece il crollo della formazione di buscaglia nel campionato di basket in casa contro trento questa è la rassegna stampa del corriere adriatico ci spostiamo invece su quella del resto del carlino sempre edizione in digitale in questo caso un'edizione unica per la regione marchi allora andiamo di titoli in titoli cominciando dal taglio alto con le notizie che arrivano dalla provincia di macerata focus sul calcio violento maceratese osimana tafferugli tra tifosi un poliziotto resta ferito a civita nova invece al via la raccolta di doni per i bambini malati che sono ricoverati al salesi si susseguono iniziative di questo tipo per portare un sorriso un attimo di felicità e dispenseratezza anche ai piccoli pazienti del salesi di ancona non si ferma all'alt semina il panico ma viene bloccato è successo tutto questo a porto recanati e poi dalle notizie che arrivano dal territorio di macerata quelle di ancona in primo piano c'è la giornata delle marche premi alle ricercatrici picchio d'oro assegnato alla falconarese francesca rossi riconoscimento speciale del presidente invece a sofia scattaglini e poi la sanità il caso all'ospedale di torrette con il direttore generale gozzini che dice stiamo riorganizzando l'ospedale ma tutto era nato da quella lettera di preoccupazione che era stata firmata sottoscritta da alcuni primari e direttori dell'azienda ospedaliera universitaria delle marche a filottrano torna la croce sulla cima della collina dei monaci le notizie dalla provincia di pesaro i primi passi dell'eni spunta il catino che ispirò mattei eravamo un gattino al pasto dei cani raccontava sempre trovato nella cascina dove si rifugiò durante la resistenza e poi la politica con il congresso pesarese di fratelli d'italia baiocchi al vertice in via mazza i residenti sono in rivolta contro i cantieri alla biblioteca edizione o meglio titoli dal piceno ascoli fermo la quintana in primo piano comporta tufilla dopo l'incidente riecco gubbini presentati i cavalieri le notizie di cronaca maltrattava la madre viene allontanato da casa e poi la violenza privata all'amat condannato il direttore santini la celani replica bene così ma io resto isolata a san benedetto una mamma scrive ai carabinieri si è salvata grazie a voi è una notizia che vale la pena di essere letta questa che porta una mamma scrivere all'arma dei carabinieri di san benedetto per raccontare o meglio per confermare la gratitudine nei loro confronti oltre a lettera un peluche e la scritta protetta da un amore malato suona al cancello della caserma si legge in questo articolo dei carabinieri portando in mano un peluche a forma di pupazzo di neve accompagnato da una toccante letterina di natale per ringraziare la vicinanza dei militari dell'arma sempre pronti a difendere i più deboli in questo caso un gesto singolare e un augurio speciale ma significativo che evidenzia la attività costante e l'azione che i militari dell'arma hanno svolto e svolgono giorno e notte sul territorio nel bigliettino che ripercorre un periodo difficile della vita della donna viene messo in risalto il sostegno e la protezione nel corso di un amore malato vissuto dalla figlia adolescente successivamente per il soccorso tempestivamente svolto dall'arma dei carabinieri nell'ambito di un incidente d'auto dove la stessa giovane era rimasta coinvolta ho sempre avuto enorme gratitudine ed ammirazione sin da piccola e ora questa mamma vi dice ancora di più grazie scrive appunto questa donna di nome lucia è poca cosa per voi che ci siete sempre stati nei momenti più difficili che oggi sono chiamata a superare le mie figlie adolescenti me l'avete protette e tutelate ancora grazie per essere arrivati dove io non riuscivo davvero un bel gesto una bella storia doveroso metterla in risalto insomma per raccontare poi quello che l'impegno delle forze dell'ordine e anche qual è la gratitudine che si riconosce loro l'home page dei quotidiani corriere.it in primo piano c'è la rubrica data room con la vergogna dei fascicoli arretrati che riguardano il destino di 110 mila bambini sono i procedimenti pendenti davanti ai 29 tribunali per i minorenni i giudici sono insufficienti così si accumulano pendenze con gravi danni per il futuro dei minori l'approfondimento per l'appunto che ha svolto milena gabanelli nel suo data room scontro fra due treni nel ravennati 17 sono i feriti caos e ritardi inchiesta sulle cause le testimonianze ho visto i passeggeri volare quanta paura lo scontro tra un regionale un frecciarossa lungo la linea bologna rimini nessuno dei feriti è grave contra in italia che dice la circolazione dell'alta velocità è tornata a posto le cause sono in fase di accertamento i passeggeri sono stati accuditi e poi spostati su altri convogli.il mess la melonia è pronta a dire sì secondo il corriere ma vuole prima le risposte su bilancio dell'unione europea su patto emigranti il confronto con la presidente della banca centrale europea la lagarde e con il governo tedesco al corriere parla la schlein sul mess solo propaganda l'italia non può bloccare tutta la comunità europea per un trattato e poi le parole anche di la russa il presidente del senato sull'amicizia con concia a destra da sempre sono il più aperto di tutti e poi si definisce come jessica rabbit il presidente del senato e la commissione saltata forse andava spiegata meglio la possibilità di paola concia di essere nominata tra o nella commissione che avrebbe dovuto portare avanti il progetto del ministro valditara sull'educazione affettiva nelle scuole e a tal proposito gino cecchettini il padre di giulia ieri in tv da fazio dice non odio voglio essere come giulia mi sono chiesto anch'io se ho sbagliato repubblica in primo piano abbiamo intervento del leader del movimento 5 stelle giuseppe conte presidente meloni è una questione morale dice a casa del mastro sgarbi e santa anche poi il focus di repubblica cattolici in politica diaspora e scomparsa non ci cercano più dicono le ferrovie e lo scontro tra freccia rossa ed il regionale nel ravennate e regolare la circolazione sulla rete dell'alta velocità con 17 feriti l'ambiente la cop 28 a dubai il pressing globale su russia e iran basta difendere il petrolio il ministro picchetto frattin siamo per il nucleare ma no a nuove centrali e poi le due guerre le ultime mosse di sinuare il capo di hamas fuggito a sud intrappolato nei suoi tunnel la guerra russa ucraina l'attacco notturno su kiev abbattuti otto missili russi per l'esercito ucraino la wonderlion dice sostegno dell'unione europea all'ucraina sia incrollabile resta però l'ostacolo dell'ungheria alla spezia alfredo zinucchi e i tatuaggi satanisti con 666 roba giovanile dice oggi e sarà interrogato l'assassino della moglie rossella cominotti a firenze sei mesi senza cata la bambina di sei anni scomparsa le indagini si dirigono su due piste ma il mistero è ancora fitto il caso a monfalcone la crociata anti islam la sindaca vieta la preghiera e il fatto inevitabilmente diventa un caso l'inchiesta dopo il rogo di tivoli vecchio un ospedale su 4 e 10 miliardi per i lavori sono fermi nei cassetti potevano morire altri 20 malati e l'ipotesi tragica nella già tragica vicenda del rogo che ha visto coinvolto l'ospedale di tivoli questo per quanto concerne l'home page di repubblica ma adesso torniamo sulla rassegna stampa locale per approfondire il tema che ieri ha tenuto banco in regione ovvero la giornata delle marche non solo i premi abbiamo detto per le ricercatrici francesca rossi e sofia scataglini ma anche il focus sulle infrastrutture e lo sviluppo della regione marche nel dettaglio sul corriere adriatico edizione in digitale ecco gli obiettivi il polo amazon che si sta costruendo all'interporto di jesi un polo da 65 mila metri quadrati il più grande del sud europa e sarà attivo già nel 2025 poi le ferrovie si attendono investimenti per l'alta velocità sulla linea adriatica il porto va avanti il progetto della penisola per lo spostamento del traffico dei traghetti dal cuore di ancona aeroporto nuove rotte per il turismo lo sviluppo del settore cargo il protocollo col cnr per l'avio lancio di piccoli satelliti infine le strade un finanziamento di 500 milioni per la sua prosecuzione a sud della pedemontana acquaroli che dice servono investimenti miliardari per la ferrovia adriatica mercoledì la penisola del porto alla conferenza delle autorità portuali tanti progetti per accorciare tempi e distanze di una regione che è rimasta in questi anni comunque indietro e poi la legge urbanistica la nuova legge approvata dalla regione Marche su proposta della giunta che garantisce dice assessore Stefano Guzzi il minor consumo possibile di suolo una norma attesa da più di 30 anni che però ha visto addirittura 6 sedute dell'assemblea delle Marche più di 400 emendamenti una discussione fiume una maratona sugli scranni del consiglio per approvare questa legge che inevitabilmente fa contenta una parte politica e muove le critiche le polemiche delle opposizioni il futuro è in testa alle donne il doppio premio all'ingegno picchio d'oro a Francesca Rossi Anconetana che da anni vive e lavora a New York già docente di informatica all'università di Padova esperta di intelligenza artificiale ora è presidente dell'association for advancement of artificial intelligence e poi premio speciale del presidente della regione Sofia Scataglini di Potenza Picena ingegnere biomedico professore ordinario presso l'università di Anversa in modellazione umana digitale e dispositivi indossabili per l'ergonomia la salute e il benessere sono le due donne scelte per perché hanno portato in alto il nome delle marche anche all'estero ci ricorda come le discipline stem siano particolarmente adatte alle donne una doppietta dunque per il mondo del digitale lo sviluppo ma le parole sono questi ultimi che vi ho letto di Lucia Albano la sottosegretaria all'economia insomma un futuro in testa alle donne ma soprattutto una presenza di un premio importante e quello per queste due donne che hanno saputo portare in alto il nome delle marche nel mondo e quindi sono state giustamente viste e riconosciute e premiate con il picchio d'oro e con il premio speciale del presidente della regione per questo che riguarda per l'edizione 2023 della giornata delle marche ci fermiamo ma le notizie come sempre continuano non solo sul canale 12 del digitale di ETV ma ovviamente anche sulla nostra pagina facebook l'azienda agricola Angeri di Varano per questo Natale vi aspetta nell'unico punto vendita in via Papa Giovanni XXIII 65 a Camerano potrete personalizzare i vostri pacchi natalizi con prodotti a chilometro zero di altissima qualità anche con servizio di consegna a domicilio ampia scelta tra panettoni e cioccolatini artigianali vino, grappa, olio e tutti i nostri articoli a base di lavanda sorprendi le persone a te care Angeli di Varano regali uniti